utilizzerò del cordoncino degli avanzi in due colorazioni diverse uncinetto di lavorazione numero 4 inizio con questa colorazione avvio esattamente 31 catenelle multiplo di lavorazione 6 più 1 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 perfetto aggiungo un'altra catenella per ritornare indietro a punto basso infatti a partire dalla maglia dietro rispetto alla catenella inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di trentun punti bassi 3 4 5 ultima catenella trentunesimo punto basso e voilà adesso realizzeremo delle righe realizzando dei ventaglietti utilizzeremo il punto prada e il punto ventagli intanto per le prime due righe lavoreremo il punto prada per cui giriamo il nostro lavoro nel primo punto facciamo un punto basso più 2 catenelle e poi nello stesso punto aggiungiamo tre punti alti 1 2 e 3 saltiamo 1 2 punti andiamo nel terzo punto e facciamo un punto basso seguito dalle due catenelle e ripetiamo fino alla fine della riga sono al termine della riga ok per cui mi rimarranno gli ultimi tre punti i primi due li saltiamo e nell'ultimo andiamo a lavorare un punto basso durante la primissima riga abbiamo un totale di 10 ventagli durante la seconda riga ripetiamo lo stesso lavoro di prima catenella già fatta entro sempre nel primo punto e ripeto il lavoro di prima due catenelle nello stesso punto lavoro tre punti alti però a differenza della primissima riga dove andavamo a fare il punto basso sul punto basso sottostante qui lo faremo nelle due catenelle che abbiamo dopo il punto basso e quindi entriamo nello spazio e facciamo un punto basso da qui ripartiamo con le due catenelle e sempre nello stesso spazio delle due catenelle ripetiamo i tre punti alti 2 e 3 perfetto una volta fatto questo andiamo direttamente nelle due catenelle di separazione e ripetiamo due catenelle e tre punti alti e continuiamo così fino alla fine della riga per cui una volta fatti tre punti alti andiamo a chiuderci nella seconda catenella delle due perché abbiamo punto basso più 2 catenelle la seconda catenella è questa io entro proprio nella catenella quindi prendo entrambe le asole adesso vi mostro meglio ecco qua e prendo il cordoncino ma devo effettuare il cambio colore possiamo fare anche un cappio per comodità quindi facciamo passare attraverso sia la prima colorazione che la seconda faccio passare tutto attraverso la catenella ok quindi vado a chiudere con entrambi i colori così così li blocco lascio la prima colorazione prendo la seconda faccio una catenella per alzarmi se vi va potete anche staccarlo il cordoncino io non lo farò perché una volta che termino le due righe appunto ventagli con il rosa più vivace vado a riprendere direttamente l'altra colorazione ora giriamo il nostro lavoro ecco perché bisogna avere un numero multiplo di 6 più 1 per andare a lavorare il punto ventagli nel primo punto vado a lavorare semplicemente un punto basso come di consueto mentre il ventaglio di 5 punti alti lo andrò a lavorare in ciascun spazio di 2 catenelle e alternerò un ventaglio e un punto basso intanto andiamo a fare il ventaglio entro nello spazio e lavoro i primi cinque punti alti 2 3 4 e 5 poi facciamo il punto basso proprio come abbiamo iniziato lo andiamo a fare sempre nelle due catenelle di separazione quindi entro e faccio un punto basso secondo ventaglietto prendo il filo entro nello spazio e vado a lavorare i cinque punti alti 2 3 4 e 5 perfetto molto molto facile poi andiamo nello spazio successivo e facciamo un punto basso e questo sarà il risultato continuiamo per tutta la riga quinto ed ultimo punto è anche ultimo ventaglio qui abbiamo un totale di cinque ventagli proprio come abbiamo fatto all'inizio andiamo a lavorare un punto basso nella seconda catenella in questo caso quindi salto tutto e vado proprio qui nella seconda catenella entro proprio nella catenella non nello spazio altrimenti avrò un lavoro un po' dilatato e il lavoro rischia anche di non crescere in maniera corretta quindi prendo il cordoncino e chiudo a punto basso durante la quarta riga ripeteremo sempre il punto ventaglietti però iniziamo come di consueto no per questo punto di lavorazione vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi potete fare anche le 3 catenelle aggiungo altri due punti alti per un totale di tre quindi ho realizzato un mezzo ventaglio eccolo qua dopodiché saltiamo due punti andiamo nel terzo e faccio un punto basso poi prendo il filo nel punto basso successivo andrò a lavorare un ventaglio di cinque punti alti 1 2 3 4 e 5 salto due punti vado nel terzo e faccio un punto basso poi nel punto basso al di sotto faccio il taglio e nel terzo punto un punto basso fino alla fine quinto ed ultimo punto siamo al termine 12 si saltano si va nel terzo si fa il punto basso mentre nel punto basso alla fine si fa un mezzo ventaglio costituito da tre punti alti semplicissimo davvero due e tre per andare avanti basterà ripetere queste quattro righe che abbiamo fatto insieme come notate non ho chiuso ancora il secondo punto alto perché lo vado a chiudere insieme al primo colore quindi prendo tutto faccio passare attraverso le asole lascio il rosa un po più vivace prendo l'altro prendo il cordoncino faccio una catenella giro il mio lavoro e da qui si riparte con il punto prada un punto basso due catenelle più i tre punti alti e così via per come vi ho mostrato prima nulla davvero di più semplice quindi in questo caso il ventaglio va a chiudersi nel punto basso da qui si riparte con le due catenelle tre punti alti e poi si chiude con un punto basso nel terzo punto alto dei cinque e così via davvero niente di più semplice questo pannello misura esattamente 23 cm andrò avanti per altre 30 righe per un totale di 34 insieme a queste quattro fatte insieme senza considerare la primissima riga a punto basso parlo del punto di lavorazione bene ho terminato il pannello rettangolare in totale ho fatto 34 righe alternando i due punti e i due colori ho raggiunto così la bellezza di 41 centimetri circa continuerò con la variante rosa antica quindi faccio una catenella giro il mio pannello vado a rifinire la zona superiore nel primo punto vado a sostituire il primo mezzo punto alto con i due punti bassi 1 e 2 sempre nello stesso aggiungo un mezzo punto per un totale di 2 alla fine farò lo stesso passo direttamente alle due catenelle di separazione e vado a lavorare due punti bassi mentre nel punto basso al di sotto lavoro un mezzo punto per cui rivediamo nelle due catenelle vado a fare due punti bassi 1 e 2 nel punto basso al di sotto faccio un mezzo punto e continuo così fino a terminare tutta la riga vedrete che al termine della riga vi ritroverete lo stesso numero di punti ovvero 31 poi siamo quasi alla fine quindi faccio due punti bassi nello stesso archetto concludo con un mezzo punto nell'ultimo punto basso e poi nella seconda catenella vado a lavorare due mezzi punti entro proprio nella catenella esatto in questo modo faccio uno entro di nuovo nello stesso faccio il secondo catenella e ho rifinito così la zona superiore guardate come tutto è tornato sul dritto diciamo o un totale di 31 punti proprio come all'inizio adesso vorrei rifinire tutta la zona ma con l'altro colore a stacco il filo giro il mio lavoro quindi mi ritrovo sul dritto o la coda iniziale alla mia sinistra qui vado a staccare il filo faccio un cappio che tengo sull'uncinetto e mi aggancio al primo punto anzi volendo posso lavorarmi anche la coda e intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 31 punti bassi 345 31esimo punto basso nell'ultimo aggiungo due punti per un totale di tre primo angolo mentre nella riga dei ventagli alterneremo un punto e due punti andremo a lavorare un solo punto basso quando abbiamo terminato una riga del punto prada col punto basso infatti qui notate la riga successiva c'è il punto basso finale per cui facciamo un punto nella riga successiva il punto prada inizia con un punto basso con le due catenelle per cui durante questa riga faremo sempre due punti bassi 1 e 2 nello stesso punto poi riga dei ventagli qui o il punto alto per cui vado a lavorare due punti bassi 12 poi riga di ventagli successivi avevamo iniziato e terminato col punto basso per cui vado a lavorare semplicemente un punto basso ad ogni modo basta alternare due punti è un punto infatti 12 e subito dopo nel lavoro 1 poi punto alto qui lavoro due punti 12 subito dopo nel lavoro 1 posso fare questa operazione anche con l'uncinetto 3 e mezzo per entrare meglio all'interno dei punti quindi 12 punto successivo un punto e di nuovo 12 un punto e continuiamo così poi nella catenella iniziale faremo tre punti un punto in ciascuno nell'ultimo tre punti e poi quello che abbiamo fatto prima lo facciamo anche sul lato più lungo alternando due punti è un punto finché non terminiamo bene terminiamo il giro due punti un punto adesso abbiamo l'angolo per cui nello stesso punto dove abbiamo lavorato il primo ne lavoriamo altri due per formare il quarto ed ultimo angolo quindi possiamo anche chiudere con un punto bassissimo nel primo punto e fare anche un secondo giro un terzo giro appunto basso io intanto vado a fare il secondo partirei proprio dal secondo punto dei tre in questo modo vado a fare subito l'angolo quindi inserisco nel secondo punto dei tre inserisco la sola tiro un po e vado a fare una catenella che sostituisce il primo punto basso poi aggiungo altri due punti per un totale di 3 ok poi entro nel punto dove ho chiuso e lavoro un punto basso e poi da qui andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto però ritorno all'ucinetto di lavorazione che era il numero 4 qui abbastanza semplice semplice lavoreremo un punto basso in ciascun punto e ovviamente quando ci ritroveremo al secondo punto dei tre ripeteremo l'aumento quindi tre punti bassi stessa cosa nel secondo e nel terzo angolo nel quarto no ed ultimo perché già l'abbiamo fatto adesso insieme dunque ho terminato anche il secondo giro di rifinitura stavo facendo un po' di prove per vedere come realizzare questa borsa con la chiusura a scatto da 24 cm volendo potreste utilizzare anche quella molla se avete questa diciamo che è uguale però questa che ho è da 25 quindi volendo potrei anche utilizzare questa sì volendo si può utilizzare anche questa però io utilizzo questa perché comunque è perfetta e stavo facendo un po' di prove perché vorrei realizzare anche un po' di profondità non è necessario però non voglio che la borsa sia completamente piatta guardate così voglio dare un po' di profondità così ancora più spaziosa ed è una borsa a tutti gli effetti quindi stavo valutando di andare a realizzare i due laterali in maniera semplicissima ho visto che ho lo stesso numero di punti da una parte e dall'altra e ora vi mostro come fare poi stavo pure sperimentando di andare a cucire direttamente a punto basso però voglio fare qualcosa di diverso ma sempre facile facile qui ho la catenella che vale come primo punto il secondo dell'angolo è il terzo vado a chiudermi in questo modo ora questa catenella qui che io segno col marca punti vale come punto entro nello stesso punto in costa dietro e faccio un punto basso vado a lavorare un punto basso in costa dietro in ciascun punto in questo modo ora vi faccio vedere che vado a chiudere a cerchio in totale ho lavorato 36 punti compreso il secondo punto dell'angolo fatte i 36 punti bassi faccio una catenella e poi mi vado a congiungere sempre in costa nel secondo punto dell'altro angolo e per cui andrò a lavorare sempre in costa il primo punto di 36 ok ho fatto un punto basso anche nel secondo punto dell'altro angolo ora facciamo una catenella e mi aggancio direttamente nel primo punto basso ovvero quello lavorato nel secondo dell'angolo però lo vado a fare normale non in costa è continuo in tondo quindi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto ovviamente andrò anche a lavorare la catenella di separazione che ho fatto poco fa ok entro proprio non nello spazio ma nella catenella stessa e poi continuo in questo modo semplice semplice ripeto anche dall'altra parte e continuo man mano faccio delle prove se vedo di aver raggiunto l'altezza desiderata mi fermo bene in totale ho lavorato sei giri a punto basso ovviamente avevo segnato all'inizio il primo punto del giro perché ho lavorato in tondo senza mai chiudere il giro ho anche inserito la chiusura e la possiamo andare a fissare momentaneamente con delle mollette in questo modo andrò a cucirla senza fare troppa fatica perché si tiene praticamente da sola vado a staccare un bel po di cordoncino mi aiuto con un ago quindi sfilo il cordoncino quindi entro nel primissimo punto intanto prendo la mia chiusura la faccio coincidere esattamente in questo modo e vado a bloccarmi qui guardate i punti bassi in costine sono la nostra linea guida da seguire quindi mi inserisco esattamente nel primo punto non potete assolutamente sbagliarvi tiro fuori il cordoncino man mano che cucio vado a piegare la lavorazione poi entro nel punto successivo e nel secondo punto e prosegue in questo modo quindi terzo punto giro il mio lavoro ed esco fuori stringo per bene quindi punto successivo entro nell'altra parte con punto successivo man mano che cucite la lavorazione ovviamente tenderà a piegarsi su se stessa tirate per bene praticamente si continua così punto successivo con punto successivo per cucio ovviamente sono sempre i primi 23 punti dove si fa fatica però come notate una volta fissato il tutto poi il lavoro è in discesa punto successivo e stringo punto successivo con punto successivo ovviamente tutti i punti coincidono perché insomma i punti sono quelli abbiamo lavorato su quelli al di sotto per cui non ci sono problemi avete visto è davvero semplice non è affatto difficile nemmeno è difficoltoso farlo nel senso oppure scomodo lo fate in maniera davvero tranquilla praticamente ho finito ho impiegato davvero pochissimo cinque minuti contati vi ho mostrato anche la parte in cui bloccavo abbiamo questi punti qua che vi sto mostrando di nuovo cioè meglio di così davvero ho applicato la chiusura in maniera facile e veloce devo dire allora prima di chiudere definitivamente vediamo se tutto è funzionale perché facciamo prima smontare ma non è questo il caso quindi chiudiamo sistemo per bene tutto il lavoro devo sistemare anche per bene questa zona qui ovviamente si deve un po sistemare ma poi con calma lo faccio beh che dire non male si apre anche facilmente quindi vado a nascondere bene il filato lo blocco per bene e ci occupiamo dei due laterali per il laterale faccio un cappio e mi aggancio esattamente alla base dove ho le prime sei righe con ventaglietti e punto prada nonché altri ventaglietti mi aggancio esattamente nel primo punto che coincide con la prima riga in rosa dove ci sono i ventaglietti e vado a fare un punto basso prendo il cordoncino mi lavoro anche la coda quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 come notate tutto coincide perfettamente è una lavorazione che ho già fatto dall'altra parte fatta la prima riga facciamo una catenella giriamo la nostra borsa e andiamo a lavorare altre 9 righe a punto basso di soli 9 punti per un totale di 10 righe a punto basso fatte le prime 10 righe di 9 punti bassi facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro e andiamo a diminuire saltiamo il primo punto e andiamo nel secondo 2 3 4 5 6 6 altra diminuzione salto direttamente il penultimo punto e vado nell'ultimo per cui ho sette punti bassi questi sette punti li dobbiamo ripetere per altre cinque righe insieme alla prima fatta sono sei 6 ultimo punto della sesta riga di soli sette punti quindi catenella giriamo il nostro lavoro e andiamo a diminuire ancora una volta salto il primo vado nel secondo 1 1 2 3 4 salto il penultimo e faccio un'altra diminuzione quindi cinque punti catenella giro il mio lavoro e vado a lavorare altre tre righe di soli cinque punti bassi per un totale di quattro righe 3 catenella adesso facciamo la riga delle diminuzioni salto il primo vado nel secondo e lavoro soltanto tre punti due salto il penultimo e vado nell'ultimo quindi abbiamo tre punti bassi faccio un'altra riga di tre punti bassi per un totale di due e poi faccio una catenella entro nel primo prendo il cordoncino entro nel secondo prendo il cordoncino entro nel terzo prendo il cordoncino quattro asole e chiudo adesso mi ritroverò un solo punto basso andiamo a stendere la lavorazione noterete che tutto coincide perfettamente accertati di questo tagliamo il cordoncino ci aiutiamo con un ago quindi andiamo a nascondere subito il cordoncino in eccesso poi prendiamo un po di cordoncino ago e andiamo a cucire un punto è una riga ok pareggio il mio lavoro come notate e inizio a cucire prendo un punto è una riga un punto della riga successiva e stringo per bene punto successivo con riga successiva e procedo bene completiamo il nostro progetto inserendo i due moschettoni a ventaglio esattamente alle due estremità proprio dove c'è la chiusura a scatto lo stavo per fare però ve lo mostro ecco qui è ben saldata perché c'è appunto la cucitura della chiusura stessa cosa dall'altra parte possiamo inserire o una catena la mia misura 60 cm praticamente questa è quella della borsa a bezzi una volta messa sul dritto apro i due moschettoni e la inserisco in maniera facile facile ok giro e nascondo l'apertura dei due moschettoni e questo sarà il risultato oppure se volete realizzare la tracolla all'uncinetto potete seguire il tutorial di una settimana fa dove vi ho mostrato come realizzarla in maniera fitta e super resistente basta avere anche due moschettoni o qualsiasi altro aggancio volendo potreste agganciarvi anche al moschettone stesso fate tre punti o quattro punti e fate la stessa lavorazione vi lascio il tutorial qui in alto poi terminate la lavorazione sull'altro moschettone e lo fate passare attraverso la lavorazione quindi avendo soltanto due moschettoni potreste anche farlo come notate la borsa si presenta abbastanza spaziosa e capiente quindi non male sapete che amo borse super comode capienti e pratiche questa lo è vediamo un attimo quanto misura siamo a 26 cm per un'altezza da 17 cm con una bella profondità misuriamola insieme siamo a 7 cm volendo non ve l'avevo detto prima se non volete utilizzare questa chiusura o magari non l'avete o non vi va di acquistarla insomma non vi piace potete sempre seguire la lavorazione del pannello e andare a realizzare per esempio o il modello della borsa gemella o altri modelli utilizzare una chiusura girello oppure dei bottoni magnetici andare a costruire i laterali e praticamente andarla a chiudere con la patella insomma è un progetto un modello molto versatile per cui se non avete questa chiusura o non vi piace o l'altra quella a molla potete sempre sfruttare la lavorazione del pannello rettangolare per un altro modello di borsa io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto vi aspetto come sempre giù nei commenti al prossimo video tutorial un bacino a tutti